Grazie, buongiorno a Paolo Messa, direttore di Formiche, ma l'euro ci sarà ancora? Questo è un tema che sta sullo sfondo della crisi di queste settimane e purtroppo ci sono tante simulazioni che ormai si fanno e di cui dà conto anche i Financial Times di oggi su ipotesi di rottura della moneta unica. Sostanzialmente l'ipotesi che più oggi prende corpo è quello che sia l'euro in Germania diventi una moneta a parte e noi restiamo con l'euro bad moneta, diciamo così. In realtà noi prima ancora della crisi dell'euro rischiamo di avere una crisi Italia spaventosa. Il grido di allarme che lancia oggi Vegas fa tremare i polsi e purtroppo non rappresenta un gesto allarmistico infondato. C'è una situazione di grandissima difficoltà rispetto alla quale si ha l'impressione che il governo stia perseguendo la stessa identica linea strategica che ha visto protagonista il governo italiano anche con Berlusconi e Tremonti. Provo a spiegarmi. Anche il governo Monti sembra privilegiare il pareggio di bilancio come valore fondamentale e quindi il tentativo di chiudere i bilanci con una precondizione che ci hanno chiesto dall'Europa. Dunque l'hanno chiesto quei signori europei che hanno determinato la crisi. In realtà noi dobbiamo distinguere fra l'Europa e i mercati. L'Europa è un circolo in cui si dicono tante cose. I mercati sono quelli che determinano sostanzialmente la sorte del nostro spread, del nostro debito pubblico. Il quale non è insostenibile in senso assoluto. Diventa insostenibile nel momento in cui noi per pagare questo debito abbiamo dei tassi di interesse molto alti. Proviamo a spiegarci. Se ciascuno di noi ha un'abitazione, su questa abitazione ha il mutuo, se ha il tasso variabile che è molto basso, quella rata riesce a pagarla. Nel momento in cui la rata aumenta perché aumentano i tassi, rischia di non poter più pagare il mutuo. Questa è, diciamo così, moltiplicata n volte la situazione che vive l'Italia oggi. Quindi ci sono sostanzialmente due possibilità. O si interviene per ridurre lo stock del debito, in modo tale che se anche la rata è alta. Cioè quei 1900 miliardi. Noi siamo a poco meno di 2000 miliardi. A due trilioni sostanzialmente. Tutti gli analisti seri, oggi Rubini, su Repubblica o De Rossi, su Quotiniana Nazionale, indicano la necessità di fare operare un taglio di almeno il 25%. Diciamo per intenderci 500 miliardi. Allora, è evidente che... Come lo facciamo questo taglio? Allora, il taglio si può fare in maniera relativamente semplice con una patrimoniale. questo che cosa può voler dire? Altro che light, in questo caso, con una superpatrimoniale, o no? No, voglio capire, non lo so. Proviamo a spiegargli gli italiani, perché se no diventa un argomento ideologico. Siccome ormai anche il dibattito politico è un po' più rasserenato, è sempre preoccupato, ma un po' più sereno rispetto ad alcuni mesi fa, ragioniamo senza ideologie. La patrimoniale potrebbe voler dire un prelievo straordinario attorno al 5 per mille del valore dell'immobile. Questo 5 per mille può essere pagato direttamente dal cittadino, sia disponibilità di liquidità, oppure si mette una sorta di ipoteca solo per quella somma. Che cosa vuol dire? Non posso più vendere la casa? No, vuol dire che quando si vende la casa, oltre a dare il 5 per mille alla gente che ha fatto la vendita, si dà poi quella quota allo Stato. Può avvenire fra 5 anni, 10 anni, 20 anni. Intanto però nella competenza del bilancio... Che vuol dire? La traduzione in maniera semplice. Cioè che non è detto che tu questa somma la devi pagare subito, ti impegni ma entra già nel bilancio pubblico. La puoi contabilizzare, diciamo. Esattamente sì, perché esiste una differenza fra cassa e competenza. Questo porterebbe ad una riduzione straordinaria del debito. Lei l'ha valutata in 500 miliardi. Questo è quello che chiedono i mercati. Diciamo, non ci ventiamo nulla. Allora, per il cittadino è meglio pagare anche a distanza di anni il 5 per mille o trovarsi in una situazione per cui fra poco, se interviene il fondo monetario e altri soggetti stranieri, avremo una svalutazione delle case del 40-50%. Secondo me, posto che la situazione non è una situazione bella e bisogna scegliere fra due alternative che non sono alternative positive, forse è meglio scegliere l'alternativa meno peggiore. Beh, insomma, è stato molto chiaro in questa sua... Non so se sei uscito a spiegarmi, però sostanzialmente... Io credo di sì, ma adesso su questo sentiamo i pareri. Buongiorno all'onorevole Laura Ravetto.